Perché stiamo chiusi qui? Nell'età della pietra, le parole di papà pesano come macini. Mai smettere di avere paura. Eppure c'è un mondo là fuori. Lo dovete assolutamente vedere. Che aspetta solo di essere scoperto. Una caverna! Metti, porta! Questa caverna è la lingua. Non ci separeremo. Dagli autori di Dragon Trainer. Eccetto voi due, A.V.A. I Cruise. Li adoro! Sabato alle 21.20. Dove sono i piedi? Su Italia 1.